Il nuovo piano sanitario lascia scontento il comune capofila. Raguse, il sindaco Federico Ficitto e il consiglio comunale di Palazzo dell'Aquila preparano una mobilitazione contro le scelte operate dal manager dell'Asp 7, Maurizio Aricò. I carabinieri della compagnia di Modica hanno portato al termine un'operazione antidroga ad essere arrestati un antico altrenne modicano ed un egiziano di 17 anni. Le operazioni sono tenute a Modica e Pozzallo. Lo storico stabilimento della Metra a Ragusa sta vivendo un momento buio. Da ieri i macchinari sono spenti e da lunedì circa 100 lavoratori resteranno a casa. Da gravare la situazione sarebbe una lotta sindacale interna tra i lavoratori. Macfrut con record di visite ed apprezzamenti. Le eccellenze siciliane che hanno portato in Emilia Romagna i nostri prodotti hanno espresso soddisfazione per i risultati raggiunti. Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Il nuovo atto aziendale dell'Asp 7 per la riorganizzazione delle strutture sanitarie in provincia di Ragusa lascia scontento, in particolare il comune capoluogo, fino a quando e fino a che l'amministrazione di Palazzo dell'Aquila e il Consiglio Comunale si stanno preparando ad una mobilitazione di tutta la città per contrastare le decisioni operate dal manager dell'Asp 7 di Ragusa, Maurizio Ericò. A Ragusa ci si prepara ad un'autentica mobilitazione contro l'atto aziendale dell'Asp 7. Già ieri il sindaco Federico Piccito era stato durissimo nel contestare le scelte del manager Maurizio Ericò, ben accette invece da Modica e Vittoria. Oggi, dal capoluogo Ibleo, rincara la dose il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Iacono, confortato da tutti i gruppi consigliari e che parla di scelte gravi e vergognose di sottrazione alla città di molti servizi ospedalieri, in contraddizione con quanto lo stesso Ericò aveva invece annunciato appena tre giorni fa. Nella sostanza Ragusa perde otorinolaringoiatria e pneumologia, oltre alla proctologia e al dipartimento di oncologia. E così il nuovo ospedale Giovanni Paolo II, costato già 47 milioni di euro, rischia di essere svuotato prima ancora della sua inaugurazione. Un concetto rimarcato dallo stesso sindaco, che non nasconde i suoi timori di un piano politico oscuro per certi versi, palese per altri, con cui il governo Crocetta da Palermo vorrebbe mortificare l'amministrazione del Movimento 5 Stelle a Ragusa. L'azienda sanitaria ha comunque spaccato in due la provincia con le sue scelte. Da un lato il favore e l'apprezzamento dei comuni di Modica, Vittoria, Comiso, Ispica, Cate e Pozzallo. Dall'altro le perplessità di Chiaramonte, Giarratana, Santa Croce e Lira del comune capoluogo. In generale, nel nuovo atto aziendale, aggiornato alla conferenza di ieri, i dipartimenti previsti risultano 10, le strutture complesse 75, le strutture semplici 96. Viene salvata la farmacia territoriale e la nuova pianta organica prevede un incremento di unità con 243 nuove assunzioni. Adesso la pagina di politica regionale. Ieri sera l'Ars ha approvato la manovra di assestamento di bilancio. Il disegno di legge prevede alcune correzioni tecniche di spesa rispetto al bilancio regionale e alle previsioni finanziarie. Se da un lato si trovano fondi pur parziali per forestali, Aras, consorsi di bonifiche e altri enti, e associazioni dell'altro, è invece probabile che già a novembre la regione siciliana debba bloccare tutte le spese. L'Ars ha approvato con 30 voti favorevoli, 1 contrario e 10 astenuti, la manovra di assestamento del bilancio per il 2015-2017. Presenti in aula solo 41 deputati su 90 e tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle ha disertato la votazione. Il disegno di legge interviene sui conti regionali, regionali in particolare attraverso contributi parziali destinati a forestali, ai consorsi di bonifica, all'Aras, al Corfilac, ai cantieri di servizio e ad alcuni teatri. Approvati anche gli articoli tecnici che accertano il disavanzo complessivo in quasi 7 miliardi di euro e prevedono la cancellazione dei residui attivi. Nel suo intervento in aula l'assessore all'economia Alessandro Baccei ha spiegato che le entrate sono inferiori alle previsioni e dunque si farà una manovra bis a novembre ma entro le risorse disponibili, mentre per il 2016 la regione Sicilia dovrà trovare ben 3 miliardi di euro. Di conseguenza a novembre è previsto un blocco totale della spesa perché, ha concluso Baccei, da qui a fine anno non vedremo entrare un centesimo in più. Il presidente della regione, Rosario Crocetta, dal canto suo ha chiarito di non avere mai annunciato alcun rinvio delle elezioni del 29 novembre per i liberi consorsi e le città metropolitane. La legge ha aggiunto, a meno che non venga modificata dall'Ars, prevedendo termini diversi, mi obbliga a convocare i comizi elettorali. Mentre, sull'impugnativa della riforma da parte del Governo nazionale, Crocetta si dice ottimista e confida che l'Ars possa procedere rapidamente con le modifiche richieste da Roma. Parliamo adesso di cronaca, nello specifico di un'operazione portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Modica, che a Pozzallo e proprio anche a Modica hanno tratto in arresto due giovani per spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 24enne modicano e di un 17enne egiziano. Notato dai carabinieri, viene fermato e trovato in possesso di un grammo di hashish. Poi, però, le ricerche si estendono anche all'abitazione e i militari scoprono che nell'appartamento in cui il giovane 24enne modicano vive con la famiglia, c'era una sofisticata attrezzatura per la coltivazione di marijuana. Un rilevatore di umidità, un termometro per mantenere la giusta temperatura, luce a LED, impianto per la ventilazione, insomma tutto il necessario per una coltivazione fai-da-te che aveva già cominciato a dare i suoi frutti, anzi le sue piante, visto che i carabinieri hanno trovato in florescenze per un peso complessivo di circa 85 grammi e alcune piantine tra i 30 e i 60 centimetri, oltre a diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. Per il giovane modicano incensurato è scattata la denuncia. Ed una analoga operazione antidroga condotta questa volta a Pozzallo ha portato invece all'arresto di un 17enne incensurato egiziano. In questo caso i militari hanno infatti fermato il ragazzo che si aggirava per alcuni vicoli del centro marinaro in possesso di un coltellino a serramanico con la lama intrisa di sostanza stupefacente, una bustina con oltre un grammo di hashish e diverse banconote di piccolo taglio. Poi negli slip altri due bustine di hashish per un totale di 18,5 grammi. Infine nella tasca dei pantaloni un bilancino per pesare la sostanza. Vista la flagranza di spaccio, il 17enne su disposizione del magistrato di turno presso il Tribunale dei Minori di Catania è stato condotto presso un centro di accoglienza del capoluogo etneo. Saranno celebrati oggi pomeriggio nella chiesa della resurrezione a Vittoria i funerali di Dario Cognate. Il giovane vittoriese è morto lo scorso 17 settembre all'ospedale Garibaldi di Catania a seguito di un incidente stradale in moto. La salma è stata restituita ai familiari dopo che ieri pomeriggio il medico legale ha eseguito l'autopsia alla presenza dei consulenti della famiglia del giovane e dei sette medici indagati. L'esame autoptico dovrà fare adesso chiarezza sulle cause del decesso del giovane. Una famiglia è stata denunciata per furto e ricettazione di mobili appartenenti ad un albergo di proprietà di un avvocato di 60 anni ragusano. Questa mattina il PM Monica Monego ha emesso il decreto di perquisizione nell'abitazione dei sospettati dove è stata proprio rinvenuta la refurtiva. Una famiglia di incensurati che vive nel centro storico di Ragusa di origini catanesi, lei 50 anni, il manito vittoriese coetaneo e il figlio 25enne, avevano gestito per anni un albergo al centro della città di proprietà di un avvocato di Ragusa di 60 anni, fino a quando quest'ultimo ha comunicato l'intenzione di chiudere l'attività. Solo qualche settimana fa il professionista è entrato nella sua struttura ricettiva per controllare se era tutto in regola ed invece è rimasto sbigottito entrando. All'ingresso si è accorto che erano sparite quattro poltrone antiche e il quadro del noto pittore comisano Salvatore Fiume venuto a mancare nel 97. L'uomo ha denunciato il furto dei carabinieri che hanno subito avviato le indagini interrogando anche alcuni testimoni. I sospetti si sono concentrati su quel nucleo familiare che per anni ha gestito l'albergo. Questa mattina è stata effettuata la perquisizione nell'abitazione dei tre dopo l'emissione del decreto da parte del pubblico ministero Monica Monego che ha dato esito positivo. Tutta la refurtiva del valore di 10 mila euro è stata rinvenuta ben sistemata nel salotto della famiglia. Per recettazione e furto in concorso sono stati denunciati moglie, marito e figlio. Il bel quadro di Fiume e le poltrone sono tornate in possesso del proprietario. Proseguono senza sosta le ricerche di Michele Occhipinti, l'85enne di cui non si hanno notizie da una settimana. Alle ricerche dei carabinieri della compagnia di Modica stanno collaborando anche protezione civile e vigili del fuoco. La zona che stanno setacciando va dalle campagne dell'Ipparino fino a Contrada Colombara nel territorio di Ragusa. Ispezionati pozzi e vasche d'acqua, casolari e fossati di irrigazione. Le ricerche a terra sono state supportate da un elicottero dei vigili del fuoco ma al momento senza alcun esito. Gli ospedali pubblici della provincia, allertati dall'arma dei carabinieri, hanno escluso un eventuale ricovero in pronto soccorso dello scomparso. Lo storico stabilimento della Metra a Ragusa sta vivendo il momento più buio della sua storia. Da ieri i macchinari sono stati spenti e da circa 100 lavoratori da lunedì resteranno a casa. Mancano le commesse ad aggravare la situazione e sarebbe una lotta sindacale interna con i lavoratori. Vediamo. Sono stati spenti ieri i macchinari della Metra. Lo storico stabilimento metalmeccanico presente a Ragusa dal 1975, prima con il nome di Almer che ha rappresentato un vanto dell'industria eblea, sta vivendo forse il suo momento più difficile. Da lunedì i circa 100 lavoratori sono stati invitati a rimanere a casa fino a nuovo ordine. Assenza totale di ordinazioni è stata la motivazione ufficiale fornita dal colosso bresciano che da un paio d'anni vive continui periodi di alti e bassi. Pur in un periodo oggettivamente difficile per tutti appare però anomalo un azzeramento di commesse. Da dove e perché arriva la decisione dei vertici? Ad avere quantomeno aggravato la situazione ci sarebbe una lotta sindacale interna con i lavoratori che reclamano il rispetto dell'accordo siglato non più tardi del 2013 che prevedeva una riduzione con relativo spalmamento dei benefit in busta paga a fronte della rinuncia totale alla quattordicesima. Un accordo che ha retto per poco più di un anno fin quando la Metra decide unilateralmente di scioglierlo a causa del persistente stato di crisi. Una decisione che non va giù ad una fetta di lavoratori che fanno vertenza alla ditta vincono e ottengono il pagamento delle spettanze relative ai mesi di maggio e giugno 2015. Una cifra che si aggira sui 15.000 euro da dividere per 26 dipendenti da ottenere pignorando parte dei crediti che la Metra vanta con i clienti. Le ditte che acquistano dalla Metra non fanno certo i salti di gioia ad avere a che fare con l'ufficiale giudiziario e cominciano a non fare più ordinazioni. Cala ancora di più la produzione e si arriva allo spegnimento della catena produttiva. Un'interpretazione questa che non va bene agli avvocati Maggio e Cortese rappresentanti rispettivamente di lavoratori e ditta. Collegare lo stop della produzione ai pignoramenti è il colmo della ridicolaggine dichiara l'avvocato Orazio Maggio che assiste 19 lavoratori. Per l'avvocato della Metra Nino Cortese i pignoramenti hanno solo prodotto un grave danno di immagini all'azienda ma non possono assolutamente avere determinato questa situazione. Intanto per lunedì è previsto un incontro tra i sindacati e i vertici aziendali per provare a fare ripartire la vita della Metra. Morire sul lavoro è inconcepibile. Basta morti bianche, basta incidenti sul lavoro. Così la parlamentare Maria Lucia Lorefice del Movimento 5 Stelle, prima firmataria dell'interrogazione a risposta scritta indirizzata ai ministri del lavoro, dello sviluppo economico e della salute dopo la morte lo scorso 21 settembre del 53enne Antonio Ganci mentre lavorava in una nave d'appoggio della piattaforma petrolifera Vega a largo di Pozzallo. La Lorefice chiede ai ministri se intendano accertare le cause dell'incidente, se intendano effettuare gli opportuni controlli sulla piattaforma petrolifera a largo di Pozzallo, se intendano predisporre con la massima urgenza misure e provvedimenti capaci di arginare il gravissimo fenomeno delle morti sul lavoro, anche attraverso sanzioni incisive nei confronti di coloro che risultano responsabili di simili tragedie. Da oltre due anni i residenti delle case popolari di via Terranova a Ragusa chiedono che vengano rimossi i rottami di alcune auto lasciate nei cortiletti interni e che oltre ad essere antiestetici rappresentano un pericolo soprattutto per i bambini e un problema sanitario per tutti. Non è il deposito di uno sfasciacarrozze né tantomeno una mostra di arte postmoderna, è semplicemente un quartiere popolare di Ragusa, per la precisione siamo in via Cesare Terranova, questo è il cortiletto interno al Civico 12 ma anche le altre aree accanto non scherzano, da almeno due anni queste autovetture o meglio ciò che ne resta fanno pessima mostra di sé all'ingresso delle palazzine e chiaramente sono anche pericolose, in particolare per i bambini, guai se qualcuno sfuggisse al controllo dei genitori mentre gioca nel cortile. Situazione incresciosa, l'ultima segnalazione fatta dai residenti risale a prima dell'estate, pare che allora i vigili urbani abbiano anche scattato alcune foto e si siano interessati a contattare l'Istituto Autonomo Case Popolari perché è lo IACP il proprietario delle palazzine e lo IACP dovrebbe darsi una mossa. A chi abita davanti a questa specie di deposito di rottami era stato promesso che un carro attrezzi doveva venire, ma siamo in autunno e qui non succede nulla, i cittadini sono esasperati e come dargli torto non è soltanto un fatto estetico ma pure di sicurezza e salubrità dell'area. Tra i rottami arrugginiti e le lamiere taglienti non si può stare. Punto. Chi ci ha segnalato tutto ciò preferisce rimanere nell'anonimato, ma è interessante anche la sua ultima considerazione. Qualche anno fa, ci racconta, nel 2011 c'erano altri rottami in zona, ma allora si era sotto elezioni e magicamente, prima del voto, il carro attrezzi si materializzò. Adesso di appuntamenti elettorali, almeno nel breve periodo, all'Orizzonte a Ragusa non se ne vedono, ma che debbano passare altri anni prima che questa vergogna cessi, non ci pare proprio il caso. La CNA di Vittoria interviene oggi sulla realizzazione del terzo polo industriale. Dopo che l'ex provincia regionale di Ragusa, che ha integrato con una somma di 250 mila euro l'importo del progetto di urbanizzazione del terzo polo, la Confederazione chiede adesso al Comune di Vittoria di accelerare le procedure di espropriazione della zona per non vanificare tutti gli sforzi fatti finora. Mentre l'autoporto rimane un'opera inspiegabilmente incompiuta, a passi piccoli, lenti ma continui, pare che il terzo polo industriale cominci a vedere la luce. A sottolinearlo il presidente della CNA territoriale di Vittoria, Giuseppe Laterra, con il responsabile organizzativo Giorgio Stracquadagno, i quali mettono in luce che, dopo il parere favorevole espresso lo scorso anno dall'Assemblea Generale del Partenariato Socio-Economico dei Fondi Ex-Insicem, sull'anticipazione di 250 mila euro della quota di ribasso d'asta in favore dell'IRSAP, ex Consorzio ASI, adesso pare che sia arrivato l'ok anche dell'ex provincia, oggi il libero consorzio comunale, ENTE, che gestisce i fondi ex Insicem. Infatti, con una delibera che sarà presto pubblicata, viene integrato, con una somma di 250 mila euro, l'importo del progetto di urbanizzazione del terzo polo. Questo significa che, fra pochi mesi, conclusasi la fase degli espropri, sarà pubblicato il bando per la realizzazione, nell'area dove sorgerà la struttura, di strade e parcheggi, rete di distribuzione dell'acqua potabile, rete fognaria, predisposizione dell'impianto di illuminazione stradale e predisposizione della rete elettrica e telefonica. Opere che mirano a qualificare il territorio e che creeranno occasioni di lavoro per le imprese locali. La CNA chiede a questo punto che il Comune di Vittoria si attivi rapidamente per portare a termine le procedure del sproprio, altrimenti si rischia di vanificare anche questa importante occasione. Il coordinamento cittadino dell'Udc di Scicli ha organizzato un incontro aperto a tutti per esaminare il progetto di città che si intende portare avanti cercando di fare chiarezza su una serie di tematiche di rilevanza sociale. L'incontro si terrà alle 18 nei locali dell'ex Camera del Lavoro a Scicli. Gli argomenti che saranno affrontati sono la conversione di truncafila a parco extraurbano, l'aumento dei tributi locali che diventa insopportabile per le famiglie e per le imprese cittadine. Interverrà anche il deputato regionale Udc, Orazio Ragusa. Con atto di giunta sono stati riaperti i termini per la presentazione al Comune di Modica delle istanze per beneficiare della rateizzazione del debito legato al monte tributi a carico dell'utente. La giunta municipale ha fissato il termine di scadenza a venerdì 30 ottobre. Abbiamo voluto riaprire i termini, commenta il sindaco di Modica, Ignazio Abate, considerate le numerose richieste pervenuteci da parte dei cittadini e dal fatto che sono partiti in questi giorni i recuperi di ICI e IMU, anni pregressi. Grande successo anche per quest'anno per la McFruit. La fiera quest'anno ha chiuso i battenti con un numero di visite pari a 39.000 visitatori. Vediamo. 39.000 persone dal 23 al 25 settembre hanno varcato le porte di Rimini Fiera per visitare McFruit 2015, Fruit and Egg Professional Show, che si conferma punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il settore ortofrutticolo. Un'occasione anche per le eccellenze siciliane di esporre il prodotto della nostra terra, conosciuto e amato in tutto il mondo. Molto apprezzati tra gli stand isolani quello del Consorzio Euroagrumi, della Libretti, del Consorzio di tutela dell'uva da tavola di Mazzarrone, della Multiplast e della Oran Freezer. Tanti i piccoli eventi proposti, tra cui tavole rotonde all'interno degli stand, del Consorzio Euroagrumi e iniziative che, per così dire, hanno unito l'Italia, come ad esempio la degustazione del fico d'India siciliano, unito al gusto inconfondibile del Prosecco Veneto. Per gli espositori siciliani è stato un modo per confermare la loro presenza ad un evento importante, ma soprattutto un modo per aver contatto con l'imprenditoria estera. Durante la tre giorni, diverse le scolaresche che hanno avuto modo di visitare gli stand e di accorgersi allo stesso tempo delle differenze di prodotto ortofrutticolo da una parte all'altra di Italia. La McFruit si è svolta a Cesena, ma quest'anno è stata spostata a Rimini con l'intento di offrire maggiori servizi e spazi agli utenti. Una scelta ritenuta adatta all'importanza dell'evento, in quanto i produttori che hanno partecipato alla fiera hanno espresso unanimamente commenti positivi sulla struttura. Ma al di là della struttura e dei numeri in crescita e la qualità dei visitatori che rende l'idea della svolta di McFruit, un visitatore su cinque arrivava oltre confine, a valenza dell'internazionalità della rassegna, già caratterizzata da un aumento di espositori e superficie. Ci fermiamo per la pausa pubblicitaria, torniamo subito dopo. Non ci sono aggiornamenti da parte delle agenzie, pertanto questo appuntamento termina qua. Grazie per averci scelto e buon weekend! Grazie per aver guardato il video!